All'interno di Fratelli d'Italia la vera sorpresa è Gabriele Veneri che si è dedicato alla politica per questo nella conferenza stampa ha annunciato le sue dimissioni dalla CNA per quanto riguarda il comparto orafo. Sì, è stata una scelta per me un po' sofferta perché più andava avanti il mio mandato e più apprezzavo quello che facevo e apprezzavo soprattutto la vita associativa e i risultati che venivano fuori. Però ho dovuto fare una scelta che comunque è complementare a quello che facevo prima perché comunque uno dei miei obiettivi è principalmente quello di portare i problemi del settore orafo argentiero e manufattriere in generale nella regione toscana. Lei è la voce un po' degli imprenditori? Guarda, ci sono tanti cavilli per chi produce ricchezza e non ricchezza propria ma ricchezza da distribuire nel territorio. Le piccole e medie aziende, i piccoli artigiani, i commercianti sono fortemente fiaccati da questo sistema paese che ormai dura da tanto tempo. Io dico che fare l'imprenditore in Italia è una missione perché realmente oggi una volta si poteva fare per denaro personale e oggi si guadagnano i soldi che sono sufficienti per pagare gli impegni presi e per distribuire ai dipendenti e ai collaboratori. Questo però è quello che ci dà energia e quello che ci piace fare e soprattutto continuiamo la tradizione del manifatturiero toscano che viene centinaia e centinaia di anni di storia. Giovanna Carlettini, scommettere e puntare su un personaggio illustre come Gabriele Veneri dimostra che Fratelli d'Italia ha tutte le credenziali per raggiungere e superare il 10%. Certo, sicuramente. Fratelli d'Italia è un partito in crescita, è un partito leale, onesto e c'è una squadra meravigliosa in regione che si presenta. Poi abbiamo l'eccellenza che è il nostro capolista Gabriele Veneri e sicuramente daremo un risultato eccezionale. Presentazione dei candidati per quanto riguarda la lista Fratelli d'Italia, si ha l'impressione per la prima volta nella storia che il centrodestra sia vicino alla vittoria, alla conquista della regione toscana. Letizia Giorgianni. Sì, si ha proprio l'impressione. Ci aspetta una sfida importante ma contendibile e soprattutto dopo ovviamente questa pandemia siamo a fianco come sempre agli imprenditori, al sostegno della nostra sanità e soprattutto dalla parte di chi si sente abbandonato perché oggi molte persone si sentono abbandonate dalla politica. Io porto in dote quello che ho fatto fino adesso stare a scendere addirittura in piazza per le persone che avevano subito un enorme torto e ho combattuto finché i loro diritti non fossero riconosciuti. Questo, se me ne sarà dato l'opportunità, farò anche per tutti gli altri cittadini. Abbiamo una sfida da vincere e ci proveremo sicuramente. Presenta questa conferenza stampa Giovanni Donzelli che è parlamentare di Fratelli d'Italia. Beh, un partito che viene dato in grande ascesa, i sondaggi lo proiettano sopra il 10%. Sì, certamente. Anche le liste che abbiamo presentato a Rezzo ne sono la conferma in cui abbiamo espressioni di partito, di ottime amministrazioni, che rappresentano ottime amministrazioni ma anche esponenti della società civile, del mondo degli orafi. Quindi una lista di altissimo livello che dimostra quanto Fratelli d'Italia è in crescita, è un'ottima classe dirigente da proporre per la Toscana della svolta. Ecco, lei è stato consigliere regionale in Toscana. Per la prima volta, dal dopoguerra ad oggi, si ha la netta sensazione che il centrodestra possa farcela in una regione che sembrava inattaccabile fino a qualche anno fa. Non ci illudiamo. La sfida è difficile perché sappiamo quanto potere gestisce la sinistra e quanto useranno questo potere per salvare l'Europoltrone. Ma l'arma in mano ce l'hanno i cittadini, ce l'avete voi. E quindi sta a voi dimostrare che volete l'alternanza, che volete il cambiamento, che volete una regione toscana che sia all'altezza delle buone amministrazioni che vedete nei vostri territori. Quindi la soluzione è votare il centrodestra, nonostante che sia una sfida difficile, ma per la prima volta possibile. A proposito di potere e di poltrone, vorrei da lei un commento su quanto sta accadendo sulle nomine anticipate prima delle elezioni dei vertici dell'Asla. È vergognoso, è indecente, però è il segnale che hanno paura. Ovviamente noi, a differenza loro, una volta che avremo vinto la regione toscana fra qualche settimana, non metteremo quelli di Fratelli d'Italia in sostituzione a quelli del PD, metteremo quelli bravi in sostituzione a quelli non bravi, senza guardare la testa del partito. Se c'è un dirigente con la testa del PD, ma bravo, per noi rimarrà al suo posto. Se c'è un dirigente non capace di Fratelli d'Italia, per noi rimarrà penalizzato. Noi porteremo avanti il merito e non la testa del partito.